Come avete visto andiamo un po' sulle montagne russe, le proposte sono varie, adesso c'è la seconda tranche di giocatori che scende il campo. Il primo è Giuliano Viguzzi da San Vittore. Vieni Giuliano! Giuliano è un altro conosciuto poete di zurudelle, poesie anche liriche e da quando è pensionato vi si dedica con una passione ritrovata ricevendo anche numerosi riconoscimenti come interprete delle tradizioni romagnole e spesso lo potete leggere mensile alla Ludla che l'Istituto Schur dedica ai nostri dialetti di Romagna. Quindi, tocca a te! Dai, vuoi dire due... Grazie a tutti voi che siete venuti questa sera, grazie di cuore. Allora, io scrivo zirudelle, le zirudelle sono delle piccole storielle prima e io le scrivo in base a quello che capita. A seconda di... uno mi dice una cosa, mi spunta l'idea e poi scrivo un'idea e poi scrivo un'idea e poi scrivo un'idea. poi, come se non c'è, a tutti i giorni, a non metto nemmeno più a uscite, tutte va mei che ne premane. All'infuori è un problema. Che tutto è una scarpata. Un'altra cosa, quanto fa fa, guardo un po' senza pazienza in che fase è tutta una crisi a l'ombra ad un amore in fine in sted a sua ame svantai con un giornale e parla studiare un sacudiot della stracola a beh e gallo avendo in grie parliare una galena rossa però parla della casa e zil e fron 82 e me asvantai parla buon ora osta quanta è cura con un sveggio osta è diventata a gara e me ha svantai da porca pensi senza preti come la voi am convinto che l'u la è gialla sull'etta lui che è il pio il cerno il cnozzo come sul letto fa il mitle sempre a te come una bietta è il stile persona al sottra sempre in forma con un bel zil, ragazzi, sempre a tutti usc'è che aveva il fronte dal nord adesso costruo vedere i santori senza cabello non ciò fa perba gris e pensierò con i gonfio alla camisa che per aver fiosò sui e qualquè l'ha bisogno di spesso perché hai disputato per me sono scherzi ai piedi da una bundana e chi non c'è me fa forza la Tatiana che assoli bastanti a cambra di là la hai fa i servizi e poi la torna là per nobbi a smè us morse in talmane e lo c'è fu perché stai pronti a far e lì da la briga e va in te bar a bec complica e lo c'è appena che il bec gli fa un gran saluto in cui ho avuto toccato a pagare sapevo? la roba a dire che la roba a fare che la roba a fare che la roba a fare e lo c'è che la roba è che la roba è buzera quanti aspas letta mattina ha io vestito ma viveremo puntino fessi che un guardello le rompia me ha conosciuto el bec go in traspantina con il tipo e la gabbè me ha guardello e l'oprati cuta bec e me ha i piz a mia vision e a stanta care le russpec unier russpec usa drasde mi fajur o una pasta che c'è da cu e non spesce che fin nasce le propine mi fate hanno voi che è ma ma spesce di la verità come io ho detto a me quando ha scritto la btp c'è sempre un input un motivo poco tempo fa uno conoscente se la siamo con la moglie ma non 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 capito abbastanza spesso alza di l'amma sempre era in ta porta con il talman lo più ma sporte dit con te e con un sboff le è finita t'amistò e posò un dò paquet sgonda via i miei difetti sempre i bar per la partida e me a ca a fendapiet sabato e meng so amarene guai e vant salta la spuena e po' tutti i messaggi che arriva o scorti a vinto a me mai non cumpri mai o righelli ogni tempo mai una volta a me baller o una pizza quai casera e poi chi è il ragazzolo che tra mette il fio un compagno fra l'acqua e non vengono in ponte in casa e vedi che adesso abbiamo in modo cer parquet un pis la toga beh e basta non vado via te arrangio e così sì ma sento un pan e non fa troppo amara ma verso i paio quando finì tolz te process hai voi di a che paese ma l'am sbagli e us la porta murmugniam a bocca torta stasi tem di i mi bordel questo effetto no vado e c'è mi come a terra lascia per o ande a santa chiam amalcord che dava bene all'esercito dei grandi brocchini quattro donne tutti in fila, quattro lingue che gli babini questa è una frase faccosa di loro roba becce, ma com'è allora quattro donne all'idea ancora che il messaggio a tutti andate ne sa l'idea tutti quattro e vede vince e va a rite marciapie per scambire fotografie senza scopo, solo con i sensi e poi a rite senza ripeto che di gli altri cellulare bisogna dire in tot e in cielo, le dimenticare in ogni modo e noi non hanno il custode solo un messaggio, soltanto faccini e ascoltano con albidini con domani uscite uscate qualche mondo alfè la faccia se spintano per un abuso sta tranquillo che mi manda scusa o in te trama, testa bassa messaggiare con tutta la classe tozze, morto, senza parola e poi che tutto è un perso e poi che tutto io ho fatto in alcola per ogni quale, per ogni vignine uscite solo i messaggi va a finire la sera bella che quando nessuno la fa bella e sarà una nuova moda ma la bocca sarà sinciuta e al suo occhio, i puretti al tuo bravo, siamo prestiti ci sta un'altra ci sta un'altra, dai qualche alcisi agli erabimi sia calgrandi, sia calzini uscoseva tutta che sia da dret che da insdevo fate sta che per mingon un po' rosso, un po' sandron us trova la propria alegria con la sprazione della Maria che la nostra tutta l'iorazione a memoria che mi è sempre la visguerno che mi è sare con un filo come i dire mastigendo un po' traidì lì la dì, verso a essucchendo fate in là con chi scarpone sta una messa qua il cadone e ninguo prende per lì e ripete colpa capì fa che a cà non venga nessuno né da sire né il padrone ora ci sta un'altra, ora ci sta un'altra ora ci sta un'altra speciale specialmente da un'altra con l'aiuto con l'aiuto della Maria tenga vota e tenta via che lontanandosi a manchere la cascata da l'altro grazie a Giuliano come avete visto anche Giuliano ha pubblicato scrivere Zirudel è un poeta complimenti grazie Giuliano allora ne approfitto per dirlo questi sono autori hanno scritto dei libri se qualcuno vuole chi li ha è disposto a venderli quindi sono qui glieli chiedete se vi interessa loro saranno ben felici ve li firmano anche pensate un po' grazie grazie Giuliano allora adesso faccio venire lo straniero il nostro il nostro il nostro allora Alfonso Nadiani è venuta a Casani Casani a Cugnola fra parte Cugnola senti senti che roba allora ero oggi a Castel Maggiore ho sentito per la prima volta dire bam bam come la balla bam bam la iscora c'è i c'è i c'è i c'è allora da fuori provincia fuori classe però perché nelle grandi squadre bisogna schierare anche fuori classe Alfonso è un uomo da palcoscenico neanche scrive recita e poi se lo volete guardare sui social su youtube c'è anche lì quindi con la sua rubrica Romagna Slag Romagna Slag dell'istituto Shure 100 spot 100 spot che potete andare a rivedere sono tutti molto bene molto divertente fa le serate con la sua compagnia che ha fondato circa 50 anni fa e siamo in giro con anche un bel tocco a me per favore e poi da tre anni fa anche la zirudella dell'unere di Sperba quindi quindi un davvero un qualità devo dire qualcosa di più no 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 grazie allora ti ascoltiamo perché non le dische le bonagnie no? lo dico proprio lo dici proprio e oppure che è un uomo di serie B un uomo di serie B mamma del Cleo fuori classe dai vai Alfonso un applauso allora io scrivo principalmente per Facebook però dell'editore di di Faessa a pubblicare le mie cose allora io ho intitolato PC il donato serie B questo è il primo libretto che mi ha pubblicato che è esaurito mentre il secondo lo potete trovare là e vado col col pezzo che dà il titolo non so se sei un po' di serie B un uomo di serie B in stanno che ho detto in Sire quando si può dormire a parte di la mia vita a sua madre di serie B o è andato a parte con chi fa e alla niente di miri ma io non so a parte di serie A ma è che dalla vita barabia con la sua bocca di a mio impegno ma non è che fuori dalla vita in te lavori con la tua famiglia o i credi di fare qualcosa ma non è che lei non so stai vado arrivare lì non è che in tutto interpettare in tutto che metti P un P a fare una massa ma sono sempre in B in termini essere amici con tutti perché non so che fa non è che un bel amico proprio da serie A sarà che è un più a fare che sempre sì che in decision sono sempre il segno a sarà che sono poco bella ma ne come un clossard come fuori da idea come da serie A ades come sono ingrazione proprio come un lini joanne che mi assaggia del mestiere qui ha critto che ne sapere tutto che mi dirà mi tirerà dun che sperate facer passer l'A tutto che sarò morto e clamidato e descrivito la fatta che clappotou ma l'ho rimasto allora siccome qui bisogna fare le cose da ridere purtroppo nei miei libretti non sono tutto da ridere anche perché lo scrivere per me è stato anche passare sopra di dispiacere che ho avuto in vari modi però questa qui è abbastanza divertente il manifesto dato che siamo ancora nel periodo dei punti il manifesto ne sono amurae di manifesto amor amma film a tirare la cor forte una volta tornando lì perché non c'è un pedo mi capì il momento mi è fatto che toglie un conteo di ragazzi a chi amico che tutto il mattino li guardava lì di il manifesto che serviva lui diceva sempre ma la sua amica è se non ti vede puoi che però una bella mattina che è qui e la la luco stamattina più insomma dei fest fan tipo non sui brigio ovest intervallo le prossime due con un raccontino che avete un premio al fatto della luz concorso voglio dire puer questo è un fan che continua la festa vede dal puer che sempre la via miglia da for l'era l'era festa dovete farmi la dubbio e paghia la tasca per sentarola e crescere i vigini un dè un dè che doveva da rida a festa con un carro e dopo solo aveva una bella carca che doveva portare a cadire e fornire per un vero nasce alla porta del cielo la porta dei bambi e ferme su mare per l'ispressione e dice crescere se mette il temere a stare facendo a nascondere un po' che ho da portare lì e bastere voi non ti riesce se è ma per me paghia la grassa e il mio gatto si può fare i grassini si ritrovano ridere voi mia reale mi deve essere in marie e ma non si posso fare guardate e non si può proprio brise no vede mi l'occhio non vede ecc ecc allora i grassini si stanno basta via circolare allora i grassini dava il mario se mese bo per scarpare il fassegno ma fate la doppia i grassini vengono via con le traccarga non sapete i bandetti dici i grassini for mille for mille tra il fassegno abbiamo po' for mille e i grassini scarpare il fassegno non fuori niente l'ombra allora i grassini già gli mandetti a qua vieni c'ho diciamo mai e mi ha detto se questo è con te beh e allora è con te allora allora vuoi rire poi da che te dopo stefano che mi paese per tenere l'occasione o in tonafieri l'uso di ah vuoi rire poi stefano con te vantini palazzo che c'è di e la certo su me che stiamo fatta bene allora il mio secondo libro che trovate dicevano in vendita Bobo Delito quella che dà il titolo a soltanto tracera la conferenza di un bel posto il Pinapoteco che fa se c'è un primo amico cristiano che di bordare che c'è niente e se c'è un bel sacco sulla storia dei pellegrinati la Pinapoteco una volta lei era da scolmetti strocchi la sua cursiva perciò lei era cinquantina più che un varchero che non portò allora la mattina prea stava in fila il stelero che andò classe per classe senza sbagli aspettando la presidenza la vice la direttrice resta sempre lei per indusione scala da fria che pagano una sfida del calzare ma nel medio di io chiede per i miei profetti era un disastro di più perfetto la utile la professoressa a voce si gente con mia mia la scusseva la testa per quindiera verso non stuggeva e per qualche testa la gna deva e mia che è buono che fai dispiato qui cadono no per quello non è impertinente si è buono ma buono da niente e chiede che mi ha messo tamba a corsa sono finito il mamba nel mio pieto lavoro se te cagnarito un giro e ha poter che ci vuote di io ho ragione le tazan chiedi a testa mentre sono finito e mi cadono la veste qui cadono dice mi prese rire il lavoro vinti la figura non caffè fornera so ma stia de di a chiedi ma le be che dè con te se ne fa finito le ragione professoressa che non l'ha mai fatta per se adesso lì avevano proprio ben marchia o un bo de lì e ho niente dito da finito allora credo quella più divertente di questo libro i spionni a me piacerebbe sol sabè con cosa fate imparire chi stia che stop mi spio che sarebbe chiesto un po ma tutti della mi case alla postia delle pile di messia che nella muriera in cui mi ha perfino scritto la dottoressa giuliana moretto a lungolo di 7 centimetri da direi che farà la fila di truie diventa un amante imbattibile visibilmente più grande indistruttibile diventa ancora lo fa l'art extra e non è più problema che la terza un furios però ti devi spolmare merloc scanziare non colta io sembra che per prendere la corcorsa e se fosse bene che la roba le forte dovrebbe mettere la dentro maniera ragata sarebbe fasta quando sesta me sostevo lì da smilante me una scritta Samantha la Susy le scoppie amiche Mirfone Jesse la Giuse ah ma allora se che gli d'accord con chiede ma se da fai anche tutti ci ha il HP che sono vera da se a dur e ormai sole di pas can se termino con una primizia assoluta di essere ovani tutte le dicole delle bimbe romani tre anni con questo incarico dopo noi a giugno dobbiamo già fare di rudella perché quello che fa le vignette è un polento non è come una volta che si stanno sul vago adesso le notizie ci sono perché eventualmente qui si parla di quello che è successo durante l'anno di quello che si spega per il futuro e non è facile dopo se cambia le e che schiega noi li stiamo insomma nel certo un buon droga che succede tutti i giorni e loro devono stare un po sul vago e dopo qua vedo che hanno giunto le morte le che bello avevo qui si raccontano tutti gli anni diverse società che si chiamano gli smembreri chi sono gli smembreri è un modo di dire forse solo faientino gli smembrati cioè gente che non si riduce da loro testa spese di anarchici diciamo un gruppo di persone che non vanno dietro la massa sono smembrati membri da membri smembrati non membri cioè non sono membri di nessuno gli fa per seconda l'unica cosa che innovato io facendo da tre anni la tirudella è che cambio luogo dove si ritrovano perché noi ci tropevamo sempre in Costarello a Marinasse dove nel 1844 si è stata fatta la prima edizione e invece io cambio luogo perché quest'anno erano andati al mare a fare questa assemblea di smembrini e il caso vuole che io mi sottorruzzo sulle generali ma qui mi sempre il porto dopo che mi sarete dopo che mi sarete il mare e via però vedo che siete stati beneficiati per questa zona dalla vignetta principale allora l'assemblea di smembrano tutti sul porto ria da chiedi a passi piet tutti smembrano del cielo e a ciò in demia tutti la assemblea tra il sessore una mare e tra ti sarai i riemi da battagli in un canton in attesa la parte per andare a defensa fatta carga e socorrer e ammissi este gran belle dire un spiaggia tra avion e es di gombra e bucione partire fresca e pronta e bella tutta l'uva che le maniera aspettando una gran saino che era fatta la marella la rustida interpelò d'un amico d'un di giovane aspettando Presidente vuoi stare senza fare niente e così dalla mattina i panini di canina di maschiere di marafone la titola dei bucione fino a quel che l'arrivere e scorrere l'attaquire dalla volta di un moscone partire d'altra situazione e mi so la riviera a vedere la vecchiera da covid non c'è riscura ne fa un po paura per di pioggia c'è il nostra guerra come secur partire con i presi che passano e i miei occhi basta più gas metallo e benzina con la guerra in ucraina c'è nessuno che è partita e se fosse poi finita non ci costa cento meno in questa corsa senza freno ma sono stossi questa bruttura in questo monte più dolore se qui pende in mor di dove and mai finì rossi cinese americane si vanno a fare bene potremmo essere per salvare l'umanità stessa e in mal ora e a momenti non fa più d'ora non è che per poi va a giù si poter e va a sostenere e il poter lo perdere e qui dà informazione e fa solo la confusione sembrano tutti capricioni e straditti non sono buoni dove sta la con poteva essere tera ma se finirà qui allora se non scorrò tutte quelle con poteva essere tera ma se fatti panenia proprio lente ne altistie ci siamo tornati anche a votare con la gente ancora al mare ma sarà questo il vero mo sperai vai stai tranquilli e materiale quindi dirà materiale non paghite non lasci idea al non deve avere pensione cari smenchi fa fortuna che nel qualche nuovo buono ogni terza scelta fuori e lo schermo la paura nello spazio sulla terra non c'è mica solo guerra con di studi e condizioni emitendo un grande impegno sport cultura e buona scienza e sare un po speranza l'Italia la sua onore in tizu che la vola Giacos Marcello è il nostro campione con la soddisfazione con un dolore che si 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 pi Cari membri, un pezzo in tì, tu d'un pezzo e vengono tì, tu li sopra il tibuccio, andati al corso di te parlò, e da qua gli arriva in mea un augur di classe in sé, ne bevote la domanda per me, da Alfonso Alcassione. Bravo Alfonso! Grazie. Ma ma che onore! Ho spettato autografato. Grazie di cuore. Bravo. Bravissimo Alfonso, Alfonso come tutti gli altri artisti, lui è ancora di più, viene da Casanico, quindi si è preso la briga di venire qui gratuitamente, con autista e la segretaria, perché quando on la boda niente, si fa aiutare per niente. Grazie Alfonso, grazie a tutti. Gianni, vieni. Allora, questo è l'ultimo intervento prima dell'ultima parte. Ah, intanto ti do questo. Vedo se troviamo. Uff, pa, 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 pa. Se me si era sulci, tanto, non faceva contatto. Una canzone di Giuseppe Tedaldi, che conoscerete tutti, no? È un eserponicista. Che lui non canta mai, questa canzone, forse ha esagerato nel testo. E, come dice la sua, hai a pesca. La canzone si intitola La Luvice. Per l'estrada in Jaleda, la Chisa, colami, bicicletta, porota, un traversa, l'estrada, la Luvice, Che a me menti a la butta baixata, un grasguet bar nasce al teador, un pareba che a me fosca a bañer. Quel che si fa successo a nascò, all'improvvisme a me so innamorare. E il cabello con estopa bruciata, è tutto tonto e tutto inga a bañer. Lì la testa, l'anslema e la veda, tutto il mostri al fain e dalè. Oh Luvice, 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 tu sei la fiamma, tu sei l'amore. Oh Luvice, 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 dentro quel fosso hai rubato il mio cuore. La aveva son boi in t'la fase, è più grosso in t'la veda benaiš. Un pareva una mela piatlasa, ma t'la volta in aveva fatcaješ. La jai din compagnia una schega, è tot mers e n'encom di boom. Una boca glambetna butega, la butega chi vende torto. Allora, tutta la paša, la laša, la poza, poza dvain e d'forma-i sta junea. Lì l'anam mai pancete, fesce na dose, moschigata e vachem padri. Quando la scopa la tervolta al budelli, dacl'alboca uicau le rocette. Lì l'anam gioin de flipar, sunsaili, la jau nali, gombè un buzzet. Oh Luisa, 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 tu sei la prima, tu sei l'amore, oh Luisa, 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 dentro a quel fosso hai rubato il mio cuore. La ialteti tot in spiegesedi, rama schedi in tesù reciproc, calpesporti ad plastica ugedi, so la vdojli alfambrotefet, la jashtraki partni šol mudanti, al calcet je l'jivašem przom, kumquintel celulite in tal gambi, kaj je groši pekili dumbok. Al mižurje je tot jel arverš, tot al kurvi in te pošč pa jem, tukla paša nekošet la sverša, ša kekul kbe la piazza t'vore. Mekedé, ai ovu troppa prisje, et indri me en pošturnipio, un kumšou laš utent la certezza, kekul kbe lači kourenšaro. Oh Luisa, 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 tu sei la prima, tu sei l'amore, Oh Luisa, 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 dentro a quel fosso hai rubato il mio cuor. Dentro a quel fosso hai rubato il mio cuor. Dentro a quel fosso hai rubato il mio cuor. Ma adesso tu hai perso rosso che ti ha capito in alto, il vostro tredo. Ma però... Sai come te Daldi, anche te Daldi eri diventato rosso. Sicurale devi avere una presentatrice per il santo svegato. Vuoi essere la Luisa? Ma Luisa? Ma Luisa? Ma Luisa? Luisa, Luisa, Luisa. Ma Luisa? Allora, grazie. Questa è l'ultima parte, ormai ci siamo, ne avete avuto abbastanza, quindi adesso la teniamo corta. No? No, no, prendo quello lì, che questo non va. Ancora, Gianni, ancora. Ancora. Non mi sono l'unica. Dopo. E' andato anche questo, no, questo va. Allora, dopo che ho presentato l'ultimo dei fini di Citori, un amico. Perché quando si fanno le cose e non si sa come vanno a finire, prima di tutto si invitano gli amici, no? Si ha bisogno di avere accanto qualcuno che ci tiene una spada, che ci dà un forte. Io l'ho tenuto per ultimo. Vieni, vinci. Vincenzo Morrone. Che loro dirà? Le zoma come fa a sapere il dialetto. Usceno Morrone, sa farà la què, o te, Vincenzo? Chi siete fiori? No, perché... Allora, se prendete il cellulare, con i didini, andate a cercare un sito che si chiama Cognomi Italiani. Allora, ci andate e scrivete Casa Dei, viene fuori la carta dell'Italia e lì c'è bella rossa. La Romagna, Casa Dei, gli è tutto a quello. Biguzzi, gli è tutto a quello. Nadiani, gli è tutto a quello. Broccoli, gli è tutto a quello. Torri, l'enche Lombardia. Molto è una massa in tutto a quello. Po, con i didini, Morrone. Bassi Italia. Bassi Italia. Allora, pensa fatta. Ma voi non mi respingete, vero? Voi non mi respingete, inclusivi. Allora, manda. O te, chi siete più? Io sono il figlio di Giovanni Morrone Fu Vincenzo, nato a Bari il 22 luglio, o 21, non era ben chiaro, del 1926, nato a Bari, cresciuto a Quarate, Corato, provincia di Bari. E allora che sapete a quello? Sopete a quello? Ma come è fatta di quei assisnati? Ma a me, adesso è anche il figlio. La pavola. La pavola. Lei è la figlia. La pirina. Che mi ha detto? Che dalla perda della sua mano, lei è della famiglia di Montrum. A qui, la burella. E allora a me a qui, a stai. Allora. Mi ha detto quei passi, perché ha detto a me la mano bella. Allora, avete saputo che la mano bella è l'unica classe di quadernini. Una l'ho meno. Un ull'alìa chiedergliene un cassetto. Allora, adesso a lei, una poesia, allora, ho scredo mestra, poesia. Ingelet. Allora. No, no, questo, questo. Ma meglio questo, perché mi muovo. Eh, bello. Non sto bene. No. Allora. Stasi da sentire. Allora, adesso la Manuela. Adesso qui. La Manuela. Le. Ma posti. Una bella parola. Ma neanche in italiano mi viene la parola. La Manuela. Non dire niente. Qua, amai a me. Fersa ad luna. Ha fatto a fersa ad luna? O è stata notta in tesi. E bisogna rete, ciamela, tutti in segno, fei una cerimonia. Fela con i zoi, per sceantesi te lesci, cosa bella sfarta. vuoi fare dal parola di Ken, di Bà, che è sempre buono. E ma sui fossi in dir una qualche sacerdotessa. Eccola la parola. La sacerdotessa. Lì ha fatto sterito. Allora, aveva i paroli? Sì. Aveva i Ken? se gli va. Tra un po', tra un po'. Neanche va. Allora, ha fatto un feste sterito. Eh? Con la sacerdotessa. Allora, però, bisogna che evochiamo uno spirito, uno spirito guida. Io posso andare un po' fuori dal dialetto, vero? Però uno spirito guida. Il grande poeta di Cesenatico, Marino Amore, che non me ne vorrà, insomma. È un brito un po' blasfemo. Allora, questo quadernino si chiama Due per Due. Allora, Due per Due è una poesia di Marino Moretti, nella sua prima fase, non la leggo, però adesso entra io. E due per due, perché è score di Bordelli, la scuola, chi va due per due, che è la maestra. E qui le poesie sono due per due, come questi bambini. E allora, Marino Moretti un po' ci guida. Allora, Marino Moretti ha questa grande stagione di poesia, inizio del Novecento, poi dopo cosa fa? La sastella poesia è scritta di gran rumore. L'Andreana, mia madre, guarda, se è un burdel e Isirela ha sceneggiato, Gastone Moschini, l'Andreana nella piazzetta del Conservi, con l'Andreana a non raccordo l'attrice, però la curiva, l'entra la piazzetta. E poi dopo, al tempo, Marino Moretti ha ripreso a scrivere poesie e sono usciti una serie di volumi. Uno di questi si intitola Le poverazze. leggo, posso leggere un passettino in italiano? Si può, vero? Poi io sono un bel migrante, voi siete inclusivi, quindi io leggo, però attenzione perché questo è lo spirito guida, vediamo dove andiamo ad arrivare, Vediamo dove andiamo ad arrivare. Allora, questo libro, le belle sono queste libri, perché in total poesia gli indubiti scori, Marino Marino gli indubiti scori. Allora, qui ne è una, la scena sulla spiaggia prima e dopo. Allora, un edizio, un serponte, tutto questo mi pare per fedeltà a un mollusco? Cle, spesso trovato fra il selvaggio rusco, Peocio, Arsella, Datolo del Mani, Mitulus, Folas, Dacticus, Puraccia, Marche, Puraccia, Romagna, Vongola, in trattoria, se non in pescheria, per te, per me, per noi, resta la poverazza. Conta quella da gente che si lagna, povero cibo, donò della sappia, ipide posto quando il mare impazza e il pescatore col cogollo in vita, mentre il gabbiano appare all'orizzonte, ti viene incontro, l'hai quasi di fronte, la poverazza. E allora adesso io vi leggo questa poesia. Attenzione, lo spirito guida ci ha portato la poverazza. purazza. Purazza. Che è tra la mattina in spiaggia, ma sarà sempre che, con la pressione bassa, un'è persa da te la rosina, col bosù, in mezzo noccia d'acqua. Cosa ha detto, la frucella in la sabbia per tirare fuori una purazza, ora, non si fa partire, perché lì, lì è la nativa, mai via, prima, da venire finire un bidoncino. Lì, di agli oggi, lì c'è il vanello e il mio nono lì è rastetto, tutto è tenso dall'umbrilò, se il giornale è vero, ha letto la cronaca Cisena. In questo bocica andiamo a casa, che gli ha fatto spurgare e prima sera gli è da sistemare. Il zio che gli aveva da fare col polpurazzi, a Sant'Andrea del contadente la scambiava per i siovi, che guanteva 5 uvi a Tagliadelli per la prizzera, che faceva di piacere, e ora a Tagliare per il suonello. una festa fatì pure. Ed è da tornò la stessa piritera. Stavolta a Tagliadelli pagliere per la Loredana la porta di Sint per la nonna. Chi si può mai sapere sui poteri scambi. Ma è da D'Archi che si sa dire. E me me la sera lì che la diceva un po' in trinso in slariva di me. Lì la stessa in corte che bella guerra e la strira russet che rito e io ci bieriché a Brunveda che ho una modella nera. Se fai la mia bella sposa muovì in Andria che ti senti come si ha da fare. E me me ho imparato perché non sa famiglia a chi o a che un po' y in la vita. È bella? Allora alzami chi ha scritto ma è anche una potessa solo che bisogna avere Facebook e ce l'hai che so anch'io ce l'ho però di nascosto con un sottofalso nome però la vado così ogni tanto a spirciare allora questa l'ho trovata e loro ho detto tu sporta ste spirito guida in questo rito che stiamo facendo sportale perché lì aveva la sacerdotessa però secondo me sono d'accordo con me e questi qua si rifanno l'applauso alla manubreira allora adesso abbiamo cominciato con la fiera di bouquet e allora adesso mi ha di bouquet che è sempre dalla manubreira adesso lo spieghiamo io l'ho letta la mia ma doveva dare l'inizio a tutta questa roba allora andiamo avanti però mi ha detto che non era con gli occhiali i gabbiani arrivano arrivano tipo Bertinato ok sai io da dire chi fa simpatia chi trova bene ma è il posto di sicuro sempre sempre come dal razzo e fa il spuro l'occhio che prega d'intorno e guarda spiessi chi è bene chi è andato qua io può e si avviene a stungere e fa chi striglone e se da fempirini la pera chi fa bene tra me e se mi dice copicate te quando poi ragazzi tra te per un peso per una sughiesa e fa una confusione un botasso che mi dà e basta e poi mi avversa e me lei quando andò a sette ora io tosò tutti in sé e spieghi e vanno andando sull'entro qui e non di sé a fede lezioni e a pienso e poi speriamo che mi è per buona misura intorno al dover sera dopo chi si è sempre bene ma fa la pericena via marana grazie come si fa la prima cosa che fa la poesia fa bene a chi la fa chi scrive lo sa e io scrivo perché mi piace e mi diverso se poi vi è piaciuto mi fa ancora piacere te li picchio dopo in privato che così voi non vedete avevo detto, ma si leggerò qualcosa di mio poi metterò qualche poeta di quelli tradizionali più tradizionali di me non c'è nessuno dai, grazie grazie allora, siamo in chiusura ringraziamo i nostri ospiti del circolo Asci di Borella perché sono stati ospitali e li hanno preparati con te grazie di cuore ringraziamo l'associazione Tecchi Siete Fior perché ha permesso queste serate ringraziamo voi che avete preso su e siete pronti qua ad ascoltarci, ad applaudire e spero a divertirvi ringraziamo di cuore davvero i nostri amici che hanno dedicato il loro tempo e la loro passione per farvi divertire chiude il nostro amico Gianni Broccoli con una delle sue vi aspetta il buffet grazie di cuore vi rimandiamo al primo dicembre all'Obi 3 a Cesena sempre buoni sempre diversi grazie questa è una canzone dedicata a tutti quelli che vanno con la città i ciclisti vanno in bicicletta ma non quelli professionali quelli un po' così io ho messo la canzone e ho dato un'idea e mi saffermi a te bar e spero che vi sarò in un po' così questa è una canzone dedicata a loro e curi dopo alla domenica e curi dù gli scappano pure come i busconi con la maia e i calzo un sin gli anni e brett e gli uccellini e gli fa gara chi va più fort dormi a te chi è la papadosh tutti in fila i curi dù ci sono i bicicletti che lo fai raddù che lo fai raddù che la voragia sono i luci molti te fai e mi fai dimmi la pargaia è bua maiore e la carpella è sua gurù C'è pazza di gatti legis teggi, a voi andy kai rzekasso leggi, o banchè pasè, i guri dusch, capicicleti al ferrador, o pida vè che sov'è barbò, a sori vant, che si raccò. A bo kai enta sov'è fion, a bu soni gulè un bel muschkom, ma tu mi as nifuta dei, i chlamuraccio mi bebi moj, e le imi pii četve gulvom, a še še otim dungurom. La bicicleta, la ja in rapurt, la in la la maža e la in la punk, la morača e la gluzen, la ja in freni šigumin, la ja in manubrio e con la scela, che quanto i guer la ja sempre bela, la ja in rodit e vintò, la ja svela come un gazon, o pida la ja sov'è barbò, da sori vant, che si raccò. A bo kai enta sov'è fion, a bu soni gulè un bel muschkom, ma tu mi as nifuta dei, i tu aburaccio mi te te vuoi, e le imi pii četve gulvom, a še otim dungurom. E le imi pii četve gulvom, a še otim dungurom. E le imi pii četve gulvom, a še otim dungurom. Bravo, 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 ma ascolta, ce ne fai un'altra, ce ne fai un'altra? Posso andare anche oltre, vieni finito. Ascolta, intanto io voglio dire che non ve l'ho detto prima, che chi vuole ci sono i libri, anche per ringraziare gli autori che sono qui presenti con noi. Grazie, Gianni, vai. Questa invece, purtroppo il camera mi ha detto non fare delle cover perché sono su Youtube e le posso pubblicare. Questa la devo fare perché la dedico Gino in Pablet, un amico scomparso, no? Una canzone degli Eagles Hotel California dedicata a lui perché a lui gli piaceva questa. E ho cambiato il testo ovviamente perché non potevo cantare in inglese perché non ce la faccio, no? Scuola se non succede. Ho studiato tre anni, alle 20, è francese, ho imparato a dire ULAP. E quindi la canzone fa così. Ho scusato. ULAP. Ho dirà la romaia, prelunga e prestretto e a forza di dire ok moussou, nelle caginioni pablè. che dall'acqua malvegge quanto è voluto e la mattina è sempre che trattato che l'incorso tu e quanto è massa e baguette che fanno in cagraggio e che del bordello non andiamo tutto perché è giù a faccio un vento lo sporni che non si conosci e poi da un maser che mui posti che fanno così e che fanno in cagraggio e che fanno in cagraggio 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 E come se niente fosse, dopo il mandat spuggele A io i coni, i pol, e baghele, e l'acqua ti passi A io la pompa è di fiore, cresce la stagione A posto c'è tutta l'acqua inventa, è un piccolo Io non so le le decine, ora mi fanno sborda Caparima di plate, caparima di plate, caparima di plate A su chi ma che ti sembra, si mi sborda, e come me I ma che che intu un calcet, i ma che intu un calcet C'è un piccolo po' bled O dire la maia, tre lunghe per strada E a forse ziri, oclusio, e c'è un piccolo po' bled C'è da l'acqua ma n'peshgi, quando che volo E l'opatere si dè shutra tau, t'le kore shkot Arare la terra, come fa Bablette Sradare le pesche, come G E sarebbe perfetto, sbarbugliare in letane E l'acqua ma n'esplorata 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 Perché Gino, come è? Doviamo dire che era veramente come il sintaco delle Feloniche Perché le Feloniche è un paese, il comune di Longiano L'acqua ma n'esplorata Non hanno un bar, non hanno una chiesa E Gino Paoletti era il dottore, il tuo cofario E allora lui viva del bar a Montegallo E la bar di Montegallo dava le direttive Ah, vabbè, mi sei con gli Orpischi Allora Gino Paoletti con il Orpischi bisogna cancanonca E questo era con tutta la campagna E lui in Tebar Fino a che è venuta fuori questo pezzo L'orpischi che è scomparso L'orpischi che è scomparso L'orpischi che è venuta Poi ho anche altri brani Come si fare? Un altro! Un altro ora! Ma sì, lo facciamo Una canzone degli anni settanta dei Rolling Stones Ah, questa! Ci ho messo vent'anni a scrivere sto testo E sono qui e me lo canto per voi Bravo! 20 anni! Ci ho messo vent'anni! Il pezzo si titola Ho caghetto soddisfetto Ho caghetto Sì! Ma ho sofferto Aiontai 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 Dai, dai, mi do to Come a te, un'argomandazione Lefti, ben, doppio evacuazione Ose di col, costa luceon Maia, pum, mastiga bene Tampu, fai, come fai, baguette Hai capito? Non, non, non Ho capito Sodic' svento Ho caghetto Sì, amo il suo fento Perché dai, gloscia dai Gloscia dai, inti cu Ho caghetto Sodic' svento Tutta notte in bigliabine Kika, kika, e non fat niente Esa stella, un'enta, un'rata Ho faccio d'ent, un'ascurel Ho c'ho antico e tutta l'aroma La glava, scabbe, dog, vint na boda E' un'ascurel E' un'ascurel Dai, dai, ti moda E' un'accurel E' un'entamota E' un'entamota E' un'intu' tol Ho caghetto Ho caghetto Allora, signore Allora, signore Siccome questa era Proeva, passione Per cui si è messo Bisogna metterci qualcosa Le signore della cucina Hanno detto che hanno riscaldato le pizzerette Dopo, gli scappatevi a tutti E non potete fare onore Quindi, facciamo basta Facciamo basta Ringraziamo Grazie Ringraziamo Grazie Adesso, se qualcuno più ha Devo dare una mano Magari a A costare un po' le sedi Vi avvicinate Al buffet Non è? Buon signore